Ciao a tutti, allora oggi voglio proporre un vlog perché andrò a Milano per il mio primissimo incontro e non vedo l'ora e con me ovviamente c'è pure Chiara e mia cugina Ela e Chiara comunque sta ridendo in questo momento, prova e ha comunque una giornata molto carina e non vedo l'ora di incontrarvi tutte e quindi ci vediamo dopo Allora adesso devo prendere il treno per poi andare alla metro perché così arrivo a Milano e alle tre e mezza, appunto adesso saranno tipo mezzogiorno e mezza ci incontreremo e non vedo l'ora quindi ci vediamo dopo, ciao Allora adesso stiamo andando in Duomo per l'incontro Non vedo l'ora, mi sta riprendendo? Sì che ti sto riprendendo In questo momento sì, ci sarà una ripresa rifosa perché mi sta riprendendo Chiara Grazie Ma non perché sei tante, perché non l'hai ripresa così, però vabbè No, invece è carino Quindi sì, adesso ci incontreremo, sono le due, non si vedrà niente E niente, ci vediamo dopo Sono qua e ci sono già tre ragazzi Si vede? E sì, si vergogna, vabbè, mi vergogna anche io Non mi vergogna E stanno arrivando altre ragazze Come vi chiamate? Allora, Cristo, Lucia e Valeria Quindi sì, loro sono le prime E dopo a vera Ciao bella gente Ciao, allora arriva a fare un'altra ragazza Mi chiamo Aestria Ciao Che bello Che bello Sì, stai carino Aspetta E sono un po' ok Un bel pollicione solo per questi cattivoli Sì Lei è la migliore? Basta Io ho deciso che lei è la migliore E poi c'è Riana Che fichi Non puoi nascere così Senza totalmente illegale Io non so chi siamo però Un di youtuber Cioè, ho capito Eh, lui è un cantante C'è quello biondo No, ho proprio Invece l'altro è un youtuber Allora, qua c'è la gente Qua ci sono due tipi che devono fare una cosa Però non ce l'ha capito cosa Qua c'è un'altra ragazza Ciao Qua c'è un'altra, quella di prima E sì Siamo qua Migliaio Ok, vai, vai, vai Bravissima Vai, vai, vai Bravissima No, oh Bravissima 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 Vai Attenzione Attenzione che Stai caducendo la corda Vai avanti Abbassati Ancora di più Abbassati 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 Ma ci posso Metticcio Eh, perché ti ha passato Grazie Dai Vai Dai Dai Vai Senti dove è adesso guarda, eh, attenzione Ciao Lei è la più carina, lei è proprio l'anima del gruppo proprio Io sono la persona più diseggiante di stanza Abbiamo capito tutto Poi ci sono loro che sono tre, tre il nuovo Poi ci sei tu, quindi sei una ciorra, come te E poi c'è la... Sì, ma ritorni bene, madre Che... Amo, ho il braccio come... Ma levate, le chitili per notte Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime so...